Tengo un problema, siccome riesco a mantenere in 3D le modifiche fatte al livello di inserimento video, adesso sto facendo un test di ripresa alla ripresa. Grazie a tutti. 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 il concorso per l'anif existe un'attività di sc상이 domenica Laz 우리가 e al paizado il paesaggio mi troverò praticamente i rapporti mi ricordo per la porta per il 1912 la condanna di Zena anche da partitivi nel 1912 sembra il più isolato morte la moglie non mi piacciono anche il più grande si spegne e devi pensare che io questo video lo metto su Youtube puoi dire come non si fanno come non si fanno non l'ho fatto io comunque è molto bello è bellissimo sarebbe bello che ci fosse qualcosa di scritto qualche cartolina da portare via grazie arrivederci